e mancino vai a sinistra come come pari rientra abbassa glielo rientra con lo stesso al viso forza tre colpi quattro colpi non rimanere come un sacco lì reagisce manu e saltello tre punti dai non rimanere lì che ho detto rispondi cambia sempre tecnica e strategia e direzioni se parte prima lui fai punto se parte prima tu forse fai punto non andare indietro c'è gente dietro lavora col gel lavora col gel lavora col gel allora vuoi uscire dall'angolo fai 12 schivata circolare a destra prova dai a destra te lo ripeto 12 schivata circolare a destra bravo così così e poi dovevi fare altri colpi guarda che stai facendo tutto il ring stai in un posto stai fisso lì gira di lato ok non andare più indietro c'è altra gente stai lì muoviti esci dall'angolo esci dall'angolo hai sentito cosa ho detto tira sulla mano di nuovo quello di prima continua lì devi continuare finché uno non va giù non andare più indietro non andare indietro non andare indietro avanza con dei piccoli blitz massi si vede sta arrivando alle corde ma si ma si ma si ma si uno due schivata a destra col gancho incrociato si e poi dopo l'hai fatto bene devi continuare forza manuel l'hai fatto bene devi continuare ma si c'è diretto al tronco e perno sinistro forza ma si e poi devi continuare non andare indietro vieni qua vieni qua blitzalo e buttalo via spingilo e sentite cosa ho detto conquista il drink conquista vai alla continua più incisivo nei colpi massi vai avanti vai avanti perno a sinistra perno a destra subito un gancio col perno ma un gancio però veloce un gancio col perno uscendo a sinistra vai subito sì così e poi tre colpi dai subito un gancio col perno a destra 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 subito un gancio col perno a destra